Nelle ultime ore, l'ex concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi, ha confermato di aver chiuso il rapporto con Vittorio Menozzi. A distanza di mesi dalla fine dell'ultima edizione del Grande Fratello, nelle ultime ore, la seconda classificata nonché la vincitrice morale del reality Beatrice Luzzi, si è lasciata andare a delle rivelazioni inedite e del tutto inattese. L'attrice di Vivere ha confermato sui social di aver chiuso in maniera definitiva il suo rapporto di amicizia con l'ex coinquilino Vittorio Menozzi. Ma prima di scoprire cos'è successo, facciamo un attimo un passo indietro. Ricordiamo che i due ex GFini, durante l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, avevano fin da subito stretto un rapporto speciale e tra di loro si era creata un'intesa molto forte e profonda. Tuttavia il loro rapporto si era incrinato poco prima dell'uscita del modello, anche in seguito ad alcune sue confidenze fatte a Greta Rossetti, che a sua volta aveva riportato a Letizia Petris e Paolo Masella, sull'attrice di Vivere. Grande fratello, Beatrice conferma l'addio a Vittorio. Proprio per queste ragioni, una volta usciti dalla casa e conclusa l'esperienza nel reality di Canale 5, i due ex coinquilini non si erano più frequentati e sentiti come in molti avevano sperato nei mesi addietro. Nelle ultime ore, il loro rapporto è tornato ad essere al centro dei riflettori e al centro di un battito tra alcuni fan su Twitter, come riportato da Bici. In particolar modo, una ragazza ha detto la sua facendo un elenco degli sbagli che avrebbe commesso Vittorio Menozzi. Non sono Beabaldi, ho anche votato per Vittorio, ma dopo aver sparlato e riportato fatti privati e intimi a Greta per me vale zero. Vea buona com'è lo avrà graziato, ma questo resta per me, un bamboccio. Diciamo che ha avuto molta magnanimità, avrà considerato la sua giovane età, ma permettere che passi il messaggio di essere stato molestato senza avere mai preso posizione né in puntata né nei social è la cosa più squallida e vile che ho visto in questo grande fratello. Lui ha il primo posto, ad un certo punto, sulla questione è intervenuto un nuovo profilo con il nome dell'ex GFina che ha così commentato. E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni. La tua è una buona sintesi. Grazie. Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti e parliamo di altro. Grazie, in molti, dopo aver letto questo commentato, pensavano si trattasse di un account fake ma in merito è intervenuta Beatrice Luzzi stessa che ha assicurato di essere lei con il suo profilo privato. Quindi, in altre parole, ha confermato di aver chiuso i rapporti con Vittorio Menozzi.